E' chiaramente partner con questa associazione che fa tanto bene nel territorio perché svolge un'attività per i suoi soci davvero importante dal punto di vista proprio della valorizzazione del patrimonio paesaggistico sia toscano ma anche italiano e internazionale. E poi dall'altra parte in questo caso specifico si tratta di un'operazione davvero straordinaria. Il CAI ha realizzato queste fotografie, questo approfondimento sulle pievi presenti nel territorio. Ora anche la banca del Valdarno, ex Cassa Rugale di San Giovanni Valdarno, nasce all'interno della Chiesa. Per cui questa valorizzazione del luogo dove molte persone hanno condiviso la loro fede, i loro valori, la loro cultura la dice lunga anche sulle radici storiche e valoriali della nostra banca. Per cui c'è stato un motivo in più che ha spinto oltre alla collaborazione ormai pluriennale con questa associazione a far sì che la banca proprio collaborasse e desse il sostegno anche a quest'iniziativa. Tra l'altro secondo me il CAI e il Benemerito che hanno realizzato questa cosa molto interessante c'è questo connubio tra immagini e dunque il particolare dell'immagine. Molto spesso sono chiese che magari vediamo, diciamo di conoscere e poi magari ci sfuggono i particolari approfondimenti nel Valdarno. Un Valdarno pieno di piedi e dunque di luoghi dove i pellegrini si fermavano, trovavano ospitalità, trovavano sosta e dall'altra parte hanno creato questo connubio tra l'immagine, la foto, l'approfondimento della bellezza di queste realtà e l'elemento culturale storico perché ci saranno anche delle conferenze collegate a questo. Insomma la banca non poteva essere presente anche per i motivi.